Io ho grandi emozioni, non ce l'ho qui, più che emozionati bisogna arrivare a coraggiosi e determinati. Domani la partita sarà durissima, siamo consapevoli della grande difficoltà che troveremo in campo e questo ci deve dare spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Poi c'è l'altro aspetto, nel calcio niente è impossibile e questo ci deve dare convinzione e coraggio. Però la partita non mi sembra una partita da presentarsi emozionati, mi sembra una partita da presentarsi belli incazzati. La strada più semplice per la qualificazione purtroppo non esiste, la qualificazione noi ci auguriamo di ottenerla ma non sarà sicuramente semplice. Loro hanno una qualità smisurata e come tutte le squadre che hanno tanti giocatori di estrema qualità hanno grande facilità a trovare il gol. E quindi penso che noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva, ma poi bisogna avere il coraggio anche di andare a farne male perché pensare di stare 100 minuti lì dentro a difendersi e basta la vedo dura.